segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma è l'altra cosa che le volevo chiedere appunto riguarda questo pd che sembra sempre più distante da 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 deluca il partito democratico di oggi ha una la prima segretaria donna ha una sua linea e deluca è lì qualcuno dice arroccato nella sua nella sua campania lei si sente lì sotto assedio in campania a tenere a tenere il punto il pd è distaccato da se stesso non da deluca deluca intanto è stato eletto dai cittadini campani con il 70 per cento dei voti è una delle mie critiche che abbiamo un gruppo dirigente del pd che per l'ottanta per cento salvo ovviamente eccezioni pienamente rispattabili ma per l'ottanta per cento è fatto di anime morte che non rappresentano nulla né sul piano territoriale né sul piano sociale spesso neanche sul piano della grammatica e della sintassi io credo che un partito forte autorevole debba avere gruppi dirigenti che rappresentano qualcosa e non soltanto gli equilibri delle correnti delle sottocorrenti e delle tribù e rilevo che l'ottanta per cento sono anime morte dopodiché il mio problema ovviamente un altro mi interessa la discussione del pd per due ragioni la prima perché una democrazia solida ha bisogno di un'opposizione solida e autorevole e soprattutto perché c'è bisogno di un grande partito nazionale e nonostante tutto il pd è una grande comunità nazionale di militanti di amministratori per affrontare le grandi questioni di un paese come l'italia che conosce ancora fratture profonde fratture territoriali fratture sociali di vario nell'occupazione di vario di genere bene è un paese in sofferenza in declino che ha bisogno di un grande partito oltre che di una grande coalizione progressista riformatrice in grado di garantire un futuro all'italia c'è questo gong che annuncia una brevissima pubblicità poi torniamo